Siamo animatori, calchisti, allenatori, volontari, ecco, tutte queste dimensioni in qualche modo si integrano più o meno in modo armonico dentro ciascuno di noi e questi ruoli noi viaggiamo nella relazione con gli altri, in particolare in questa sera ci sotteniamo nelle relazioni educative, quelle che hanno a che fare con le persone, con le giovani, con le giovani generazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.